Ciao ragazzi e benvenuti in questo video, sono TheFastScreamers e oggi siamo su un altro video di action fatto di fila Ho appena finito di fare Oggi andremo a fare una reaction sulle carte di Yu-Gi-Oh Naruto Cioè Naruto, il mondo di Naruto nelle carte di Yu-Gi-Oh E' venuto di nuovo a piore Che bello Allora, questo qua almeno c'è un pochino di criterio Ho fatto Pochi minuti fa Un reaction su quelle della WWE e di Dragon Ball Non c'avevano molto criterio Questo qui invece ti fa, no? Le piccole cose Queste qua, da quello che mi ricordo, carte magia No? Dovrebbero essere Oh, queste sono carte trappola Carte magia c'è il ramen Che brutto rumore che sta facendo Konohiro Ah, ce n'è una Monsters Ok, credo che ci sia Naruto Monsters, allora Sto incominciando a imparare Monsters sarebbero i Quelli messi Ok Basiamoci anche Cioè i personaggi Basiamoci sull'attacco Perché Nello scorso video C'era pure su quello di Dragon Ball, no? E qui c'è Kakashi Che ha 3500 di attacco 3500 Non ce l'ha avuto nessuno In Dragon Ball lo scorso video, no? Stiamo parlando di Kakashi Di Naruto Il Prince Cioè Cioè Might Guy C'ha 3500 Cosa Gli dà un pugno Gli dà la Lo ammazza Cioè Ultimati con i anni Gli fai il culo così Mi pare che sta 2500 1600 Ma ovviamente Mi sto tenendo Ma per fare qualcosa Perché se no sarebbero Quindi E non ma Choji Sto morendo Choji Attacco 2500 Shikamaru Shikamaru Forte come Choji Attacco 2500 Kankuro È quasi forte come Shikamaru Temari è una pippa di merda Ok Gara è forte come Temari Non mi chiede lì perché 3000 E qua già Si sta incazzando Gara Oh Yakatsuki Ok Yakatsuki Pain Lo voglio più forte di tutti quanti Itachi e Pain Quindi Zetsu Ok Idan 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 Kakuzu 4000 Questo qua sto sparando numeri proprio giganti Deidara 3500 Sasori 4000 A questo punto Itachi lo butti a 7000 Kisame 3800 Itachi 4000 Vabbè Pain Mi fa incazzare Perché non Aspetta Se ci stiamo basando Sulla prima serie All'open Non c'era Ma qua Nagato Ok Nagato Nagato Come cazzo si chiama Vabbè Poi se appare qui Non lo so No però ci sono Nelle carte di Shippuden Nel cacchio c'entra Cioè Tobirama non appare Nella prima serie Mi pare Nella seconda O no No la seconda Appare Minato Ah non c'è attacco Ah ma sono carte di vino Ok quindi non c'hanno attacco Finito il video Non c'era Pain Quindi secondo me Dovevo attenermi Quello che ho detto prima Cioè che non è Era una carta Della prima serie Anche se c'erano personaggi Della seconda serie Non ci sto capendo niente Allora Fini Fine Per adesso Ma credo proprio Fini in generale Perché ho voglia Oggi Non credo di avere voglia Più Nel assoluto Nella vita Di fare questi video Sulle carte di Ui Così Ciao Ciao